E allora buonasera a tutti, Davide responsabile capitano del Cagliari con Marco responsabile capitano del Palermo. 4-1 Davide, come è andata? È stata una partita molto combattuta tra tutte e due le squadre e abbiamo avuto a voi giocando più bene del Palermo oggi. Beh, una partita correttissima e veramente il fair play era in tutti voi. Marco, dov'è che avete sbagliato? Abbiamo sbagliato in difesa, nessuno rientrava, eravamo sempre uno in meno, ci hanno rubato le giocate lì davanti, eravamo sempre uno in più. Eh sì, effettivamente loro erano più veloci in avanti, però sicuramente vi rifarete alla prossima giornata. Prima in classifica, dove dovete arrivare? E vogliamo cominciare questa bella coppa. La vogliamo proprio cominciare. Sì, perché siamo lì e... Perché abbiamo già l'avamo. Vogliamo arrivare al finale e non c'è l'anno. Grande fair play di nuovo, allora in bocca al lupo al Cagliari e al Palermo. È solo passione!